Sabato 8 agosto abbiamo una bellissima serata culturale dove ci sarà la presentazione del libro Il Sarto di Monbaroccio e ci sarà proprio lo scrittore, l'autore del libro Omar Di Maria che sarà presente a questa serata. Poi alle 8.30 ci sarà la presentazione, alle 9.30 avremo il coro giubilato di Candelara che canterà i canti francescani antichi. Quello di sabato darà il via agli eventi programmati per i mesi di agosto? Sì, giovedì 13 agosto avremo un evento importantissimo legato all'ambiente con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato nella zona di Montemarino dove si andrà a piedi dove sono stati piantati dalla Proloquo da tutti i volontari due cipressi, poi si ritornerà indietro e ci si fermerà nel Casale Spadoni in via Montemarino 11 dove si potranno degustare i prodotti tipici del territorio. Poi avremo la tradizionale festa della Tagliatella che è organizzata dal Comitato della Tagliatella in collaborazione con la Proloquo che vedrà la chiusura di tutti gli eventi estivi di Monbaroccio. Anche domenica prossima si svolgerà un'iniziativa importante? Sì, un'iniziativa importantissima domenica che va avanti dal 1517 dove i monbaroccesi hanno fatto un voto e quindi in pellegrinaggio alle 7.30 del mattino verranno su al santuario, alle ore 9 verrà celebrata la Santa Messa alla presenza del Vescovo e di tutte le autorità civili e militari oltre che del Comune di Monbaroccio di tutta la provincia. Grazie 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 a tutti.